notizie in un clic punto com è una testata giornalistica online con informazione a livello nazionale e locale notizie in un clic punto com pubblica fatti non opinioni notizie in un clic punto com la notizia giusta per te ciao a tutti io sono loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di youtube notizie in un clic visto il successo ottenuto all'interno del mio portale di informazione notizie non clic punto com la sezione di educazione finanziaria ho pensato di pubblicare in maniera cadenziata dei video che ne trattano l'argomento i temi trattati li potete trovare nel libro lessico finanziario scritto dal professor beppe ghisonfi edito da aragno buona visione vista la brevità degli argomenti oggi parleremo sia di dividendo che di dollaro di beppe ghisonfi dividendo gli utilizzi realizzati sono gli utilizzi realizzati da un'azienda secondo le decisioni dell'assemblea degli azionisti e prendono due strade una parte va agli azionisti l'altra serve per aumentare il patrimonio azientale la parte che va agli azionisti si chiama dividendo naturalmente il dividendo è proporzionale alle azioni possedute se posseggo il 10 per cento delle azioni di una società riceverò il 10 per cento del dividendo accade però che le aziende non facciano utili e pertanto non ci sia dividendo dollaro di beppe ghisonfi e la moneta americana utilizzata dagli stati uniti e in numerosi stati del mondo è una valuta più importante è la valuta più importante seguita dall'euro per le transazioni internazionali si usa molto spesso il dollaro non bisogna dimenticare però che esistono molte altre monete e con oggi abbiamo finito vi ringrazio per l'attenzione domani parleremo di economia